Buonasera, il nostro TRG Plus ci porta ancora una volta a parlare di sanità perché prosegue il viaggio di TRG nella sanità dell'Alta Umbria. La tappa questa sera è all'ospedale di Branca per parlare di urologia, un servizio istituito dieci anni fa all'incirca che ha fatto grandi passi avanti. Ne abbiamo parlato con il responsabile, il dottor Filippo Balloni. Con il dottor Balloni parliamo di urologia. Quando è nato questo servizio? Come si è sviluppato all'interno dell'Asla 1? Il servizio di urologia nasce nel 2001, non esisteva in questa Asla, è nato con il mio primariato e si è sviluppato in questi anni a livello aziendale, servendo quindi tutto il territorio dell'Asla e può contare adesso su un direttore che sarei io e su otto collaboratori, dirigenti medici, che svolgono il loro servizio su tutto il territorio dell'Asla. Ecco, com'è strutturato proprio questo servizio? L'Asla ha il presidio ospedaliero di Città di Castello, quello di Branca ed un altro a Don Bertide. Il servizio di urologia come utilizza questi presidi? Il servizio di urologia cerca di rendere ubiquitarie quelle che sono le prestazioni, chiaramente garantendo sui due presidi principali quelle che sono le attività di ordinaria amministrazione, quindi praticamente gli ambulatori divisionali, l'ambulatorio oro-oncologico, l'ambulatorio oro-ginecologico, il servizio di cistoscopia, mentre i servizi che necessitano di materiali e strumenti più costosi, vedi per esempio la litotrisia estracorporea, vedi per esempio tutta l'apparecchiatura per urodinamica, vedi per esempio tutta l'attività che riguarda le biopsie prostatiche, sono state centralizzate nel presidio di Umbertide per far sì che questo rimanga baricentrico nei confronti di tutta l'Asla e per garantire quindi un eco viaggio sia al paziente di Gualdo sia a quello di San Giustino. Come siamo messi con tempi di attesa, che in genere è sempre uno degli argomenti a volte complessi all'interno delle Asla, per l'urologia, come siamo organizzati? Grazie al cielo, facendo un attento monitoraggio con i medici di medicina generale, noi rientriamo perfettamente in quelli che sono i tempi stabiliti dai RAO, cioè vuol dire da questo sistema di monitoraggio dei tempi di attesa, quindi non ci possiamo lamentare. Parliamo di tecnologia, questo servizio si avvale di un'alta tecnologia e forse anche in questo una sfida in parte vinta ma anche da vincere? Beh, questo è un argomento abbastanza doloroso perché la tecnologia prevede degli investimenti a volte anche onerosi e sappiamo i tempi che corrono con queste spending review. Comunque cerchiamo di fare il possibile. Già allo stato attuale l'urologia può fornire a livello oncologico qualunque trattamento, soprattutto anche l'aparoscopito che va tanto di moda. e prossimamente ci sarà una innovazione perché saremo dotati di un sistema tridimensionale, cioè che ci fa vedere l'immagine in tre dimensioni e con degli appositi strumenti ci avvicineremo molto al famoso o famigerato robot, ma con costi nettamente inferiori. Due differenze. Il chirurgo sarà scomodo perché non potrà stare in console ma al tavolo operatorio. Il paziente avrà praticamente lo stesso trattamento del robot. Per quanto riguarda inoltre la patologia che più interessa ai maschietti, cioè l'ipertrofia prostatica benigna, beh, questa già da adesso può essere affrontata sia nelle condizioni normali, a cielo aperto e per via endoscopica, ma già abbiamo in dotazione un resettore bipolare il quale riduce notevolmente le complicazioni post-operatorie. Prossimamente, anche questo vi do subito una notizia, avremo a disposizione un laser, ovvero un green laser, il laser verde, che ci permette di trattare l'ipertrofia prostatica benigna in regime di week surgery, cioè vuol dire con ricoveri ridottissimi di due, tre giorni e con una ridottissima cateterizzazione, praticamente portare il catetere meno di 24 ore. Con il laser green ci verrà in dotazione anche un laser adolmio per il trattamento della calcolosi renale ed ureterale e questo ci consente, insieme al litotritore estracorporeo, praticamente di avere tutto ciò che serve in uno stone center, cioè in un centro in cui la calcolosi è trattata a tutti i livelli. Ecco, questa tecnologia che ovviamente da un lato facilita cura, diagnosi, ha anche però dei risvolti sui costi del servizio, riesce ad abbattere questi costi e quindi, come dice lei, in un periodo di spending review ci consente anche di avere una sanità efficiente ma meno costosa. Direi proprio di sì, perché a parte il costo iniziale della strumentazione, se questo determina una riduzione della degenza operatoria e una riduzione dei materiali usati per l'intervento, è chiaro che ragionando in termini di DRG, ecco, a lungo andare si rientra nel DRG, anzi qualcosa si può riuscire a guadagnare, perché una giornata di esigenza ospedaliera ha un costo abbastanza elevato. Riducendo le giornate è chiaro che questo è un recupero sul costo iniziale dell'apparecchiatura. Parliamo del servizio di urologia per le donne, ecco, che tipo di servizio e che equip sta lavorando nell'aslo? Come scuola urologica, io provengo dalla scuola urologica fiorentina, il professor Costantini, che fra l'altro era un umbro e che è stato il mio maestro insieme al professor Carini, da sempre si è occupato di uroginecologia, cioè cosa vuol dire? Della incontinenza urinaria femminile e dei problemi del pavimento pelvico, mi riferisco soprattutto al prolasso vescicale. E quindi noi trattiamo regolarmente l'incontinenza urinaria e il pavimento pelvico e per questo abbiamo istituito addirittura un ambulatorio di uroginecologia, che a scadenza quindicinale è presente a Branc ed è presente a Città di Castello, a cui ho dedicato due miei collaboratori che in particolare si dedicano a seguire queste signore, che non devono essere più condannate al pannolone, ma che possono risolvere il loro problema in maniera estremamente, direi, semplice, in quanto che nel 90% dei casi si tratta di interventi eseguiti in regime di day hospital. E quindi anche qui un impatto piccolo. Esatto, e quindi un impatto meno pesante su quello che è la gestione dell'adegenza post-operatoria. Lei ormai ha sviluppato una larga esperienza in questa ASL, da anni ormai collabora qui. Ecco, cosa si sente di dire sul servizio che lei dirige? Com'è questa urologia e soprattutto ai pazienti di questo territorio? Che cosa diciamo? Beh, mi sento di dire che dal non aver trovato assolutamente niente, abbiamo sviluppato un'orologia vera. Direi che è stato tutto molto facile, perché un detto dice, fra i ciechi, l'orbo è re. E quindi chiaramente io ho avuto vita facile a diventare re, non c'era niente. Però siamo arrivati a un punto in cui c'è moltissimo. Per cui dico che tutti quelli che migrano al di fuori della ASL, beh, buon per loro, troveranno delle strutture più belle, troveranno dei nomi altisonanti e blasonati, ma sappiano che lasciano a casa propria un'adeguata tecnologia e un'altrettanta adeguata professionalità. Grazie.